ciao amici bentornati oggi parliamo degli impianti on grid e off grid ho notato su internet che finalmente qualcuno non so il motivo ma sembra che stiamo ripetendo quello quello che vado dicendo da un po di tempo e cambiando anche un po versione dei fatti però va benissimo meglio meglio così affronta il tema dell'on grid e dell'off grid anche da un punto di vista del fai da te quindi io questo video lo voglio fare da questo punto di vista ossia possiamo fare un impianto on grid dal punto di vista legale lo possiamo fare regolare è un impianto off grid invece lo possiamo fare con il fai da te chiaramente la risposta è quasi logica nel senso che un impianto on grid deve ovviamente come abbiamo poi ripetuto svariate volte deve essere interfacciata la rete elettrica nazionale per cui è veramente impossibile farlo con il fai da te nel senso che tecnicamente materialmente lo potremmo anche fare ma poi non potremmo comunque sia accenderlo e metterlo in rete primo perché non potremmo rilasciare le dovute certificazioni di legge e secondo perché il gse non ce lo farà collegare in rete proprio perché eventualmente mancherebbero queste certificazioni di legge perché ovviamente uno che fa il fai da te non ha diciamo requisiti almeno ufficialmente per poterlo fare per cui tagliamo subito il discorso con l'on grid e quello che vorrevo dire dell'on grid però è questo allora siccome diciamo ci sono molti video su youtube tutti li possiamo vedere dove c'è chi parla dell'on grid con un po di faciloneria nel senso che non li fa magari non li ha mai fatti però ne parla e cerca di dare consigli agli altri allora bisogna dire una cosa e l'impianto un grid è un po più complesso dell'off grid da un punto di vista burocratico ma non solo perché perché questo interfacciamento alla rete elettrica nazionale deve diciamo obbligatoriamente portare ad avere una conoscenza di svariate normative quindi adesso senza addentrarci in queste normative come molti dicono molti dicono non addentriamoci in queste normative perché magari neanche loro le conoscono e anche sarebbe impossibile conoscerle tutte perché sono veramente tante vanno studiate e purtroppo le normative vanno studiate e anche capite anche interpretate certe volte per cui io adesso dico non ci inoltriamo ma perché veramente sarebbe poi anche abbastanza noioso diciamo che a livello generale parlando così a livello generale parlando tra amici in una maniera molto soft possiamo dire che non è solo un problema nell'on grid a parte i requisiti tecnici quindi una ditta che possa diciamo fare questa installazione c'è un problema anche dal punto di vista delle emissioni in rete non autorizzate dalla dall'enel queste emissioni in rete non autorizzate dall'enel sono pericolose perché sono pericolose va bene io ho già specificato diciamo svariate volte che una è sicuramente quella del fatto che se ci sono degli operatori in strada non sarebbe tanto igienico fulminarli con il nostro impianto se questo non smettesse di inviare corrente alla rete esterna ma oltre questo dove molti ho visto che sono fossilizzati non è solo questo il motivo ci sono altri motivi che sono altrettanto importanti magari sono meno pericolosi dal punto di vista della situazione riferita diciamo alla parte mortale che può comportare l'energia cioè cosa voglio dire è vero che io non devo immettere in rete e questo può essere un problema è vero che io posso immettere in rete con un grid solo dopo aver avuto l'autorizzazione ma è anche vero che questa non in questo fatto di non immettere in rete è legato anche un altro discorso c'è a un problema tecnico sulla linea elettrica nazionale facciamo subito un esempio senza allungarci troppo senza entrare poi troppo nel merito tolto il discorso sicurezza fulminazione dei poveri dipendenti enel che stanno facendo i lavori togliamo questo che ho visto che questo è un discorso che adesso stanno anche ripetendo a josa ma c'è un fattore di perturbazione della rete elettrica esterna cioè noi dobbiamo per forza di cose installare degli apparecchi ok quindi degli inverter ma non solo che non perturbino la rete elettrica nazionale cosa vuol dire non perturbare la rete elettrica nazionale vuol dire che ci sono delle dinamiche di funzionamento diciamo che tendono un po a essere dimenticate in vari video che si fanno su internet però queste dinamiche di funzionamento della rete elettrica deve segue delle regole molto precise molto diciamo così ferree una di queste è la perturbazione sulla frequenza la perturbazione che un apparecchio non ha norma o guasto può fare sulla frequenza della rete potrebbe causare grossi problemi alla rete stessa e agli utilizzatori che sono collegati ad essa soprattutto se ci sono dei motori dei carichi induttivi quindi vi ricordo che i carichi induttivi sono quei carichi che hanno una reattanza nella loro potenza cioè non ha una potenza reattiva è come se fosse una sorta di potenza che ci ritrasmette un'induttanza questa induttanza è semplicemente tra virgolette è un avvolgimento elettrico che è all'interno dei motori e che si comporta in una maniera particolare questa maniera particolare rientra poi nei casi di funzionamento dell'elettromagnetismo e qui ci soffermeremo e apriremo altre questioni che dal mio punto di vista sono molto interessanti molto interessanti e poco conosciute però vabbè detto questo diciamo che perturbare la frequenza di una linea elettrica esterna è molto è molto pericoloso pericoloso può portare dei danni anche abbastanza rilevanti e oltre questo può essere pericoloso immettere una corrente che non sia esattamente in fase con la tensione quindi io non posso immettere in rete delle energie sfasate tra corrente tensione e questo porterebbe a diciamo un sovraccarico immotivato dalla rete elettrica esterna e con conseguenti multe salate da parte dell'enel perché perché se noi dovessimo immettere dei carichi sfasati e oltre un certo limite oltre quello che potremmo diciamo immettere sto parlando della quota sfasamento che viene chiamato fattore di potenza e vi ricordo che non ha un'unità di misura e lo sfasamento proprio tra la corrente la tensione questo sfasamento non deve superare una certa soglia assolutamente perché ci porterà a sovraccaricare le linee enel quella corrente che noi diciamo stiamo immettendo è una corrente che sovraccaricherà le linee esterne quindi l'enel avrà problemi può alimentare altri servizi sulla stessa sulla stessa linea elettrica questo è un problema di sfasamento questo è un problema che devo di cui devono tenere conto l'inverter l'inverter on grid ragazzi devono rispettare una serie di norme che quelli off grid assolutamente non se le sognano ecco perché un inverter on grid stessa potenza può costare anche 2500 euro ecco perché un inverter off grid costa diciamo un quinto c'è un motivo tecnico di cui magari spesso non se ne parla perché sono elementi invisibili alla maggior parte dei casi andando avanti col discorso on grid off grid fa da te tagliamo subito la testa al toro dicendo che l'on grid non si può fare col fa da te ci vuole una data specializzata e va bene questo abbiamo detto che rilasci tutte le certificazioni eccetera eccetera e ma l'off grid lo posso fare col fa da te grazie a tutti Grazie.